Proseguono i movimenti del centrodestra in vista delle elezioni amministrative 2017. Dopo l'ufficializzazione della corsa a primo cittadino del salviniano Luigi D'Eramo, che ha ricevuto l'investitura direttamente dal leader del partito a Pontida, spunta un altro nome che concorrerà per la poltrona di sindaco. È quello di Pierluigi Biondi, dipendente del comune di Ocre, e per oltre dieci anni sindaco del comune di Villa Sant'Angelo, che ha guidato nei drammatici anni del posto terremoto. Biondi, per ora lanciato solo da indiscrezioni di stampa, ma che entro fine mesi potrebbe ufficializzare la discesa in campo, sarebbe a capo di una serie di liste civiche afferenti al centrodestra, ma che non fanno capo ai partiti canonici dello schieramento, dai Forza Italia all'Udc a NCD. Possibile un'adesione al progetto politico da dell'ex primo cittadino di Villa, di forze più tradizionali, come Fratelli d'Italia, e non è escluso l'appoggio anche di movimenti di estrema più radicale, come Casa Pound, anche se la situazione è in continuo divenire. Una fluidità che potrebbe portare, per esempio, a contatti con i partiti di opposizione in comune, per individuare un percorso per una candidatura unitaria. Uno scenario, peraltro, mai escluso neanche dal Salvignano d'Eramo. L'obiettivo finale è quello di evitare le frammentazioni e le divisioni che hanno caratterizzato l'ultima campagna elettorale nel centrodestra, consegnando, di fatto, una vittoria agevole a Massimo Cialente per il suo mandato bis. Il tutto mentre nel centro-sinistra è ancora forte l'eco delle polemiche tutte interne tra il gruppo dirigente del Partito Democratico ed il presidente del Consiglio Benedetti. Quasi scontata, a meno di clamorosi stravolgimenti dell'ultimo minuto, la candidatura di Giovanni Lolli, attuale vicepresidente della Giunta regionale, mentre è ancora di chiarire se verranno effettuate le primarie di partito o di coalizione. Situazione ancora più incerta nel Movimento 5 Stelle, dove da tempo in atto uno scontro durissimo tra una parte della base grillina ed il gruppo afferente alla senatrice Enza Blundo. I nomi che circolano, dall'ex dipendente regionale Antonio Perrotti all'avvocato Fausto Corti, ex Italia Nostra, non sembrano accontentare tutti ed è prevedibile, anche in questo caso, una guerra durissima che dovrà cercare di smorsare il gruppo dirigente regionale Pentastellato. Sul piatto delle candidature, poi, ballano altri nomi, come quello dell'attuale vice sindaco Nicola Trifuoggi, che non ha mai nascosto l'ambizione di correre per la fascia tricolore, o quello degli attuali consiglieri civici, che potrebbero tentare una nuova avventura dopo quella che nel 2012 li portò in Consiglio Comunale. Un mosaico tutto da definire, con qualche tassello che è stato già posto e con altri che verranno posizionati nelle prossime settimane, perché la primavera 2017, politicamente parlando, è dietro l'angolo.